Parrucchiere dei settisti Lombardi, un settore che conta oltre 23.000 imprese, il 16,7% italiano, cresce dell'1,2% in un anno in cui è forte la presenza di donne e stranieri, rispettivamente 69 e 8,7% del totale, contro una media nazionale che si ferma al 63,4% e 7,1%. È quanto emerge da un'elaborazione della Camera di Commercio di Milano su dati del registro di imprese al primo trimestre 2017 e 2016 relativi alle sedi di imprese e focus sulle imprese individuali per le nazionalità straniere, che mostra in particolare come ad andare di moda sia la cosiddetta piega etnica e al femminile. Le imprese rosa sono 16.039 e oltre 2.000 quelle straniere. Gli stranieri vanno infatti forte a Milano, 14,4%, il doppio della media italiana. Nel capoluogo lombardo esistono 7.048 attività tra parrucchiere e centri estetici, il 30,3% regionale. Tra gli imprenditori nati all'estero sono i cinesi più attivi, considerando solo i titolari di impresa individuale, costituiscono il 23% dei titolari stranieri e raggiungono il 45% in Lombardia. In fatto di parrucchieri, Milano è una fucina di tendenze. I centri gestiti da stranieri, in particolare dai cinesi, stanno via via sbaragliando la concorrenza italiana per via soprattutto dei costi molto low e del fatto che non serve appuntamento. Molto spesso però il prezzo basso non è sinonimo di qualità, aspetto che l'utente non dovrebbe sottovalutare.